... ... che è messo bene tra le attenzione. Tanto Suso ancora dentro e pallone che arriva! Sottoporta! E non credo che non lo abbia toccato nessuno. Non c'è stato l'intervento, credo che sia andato direttamente in porta il traversone di Suso. 1-0 Milan. Fattore Suso, rientra con il suo mancino. Mette questa palla dentro. Era un cross, ma quasi come se fosse un tiro, perché poi diventa imprevedibile. Se nessuno la spizza, se nessuno la tocca, va verso la porta e il portiere è rimasto ingannato. Sorpreso. Rino Gattuso. Buon avventura! Brilliant cross! It is indeed Romagnoli. Stricciano è artigianale. Cross dentro, il colpo di testa a girare. Ecco questo è un grandissimo gol di Cutrone. Veramente bello. Bello perché alla cieca ha sentito, ha fiutato il pallone e sono 3-1. Nel 2-1 già messi male tatticamente. Lui sappiamo che ha la tecnica di crossare che è quella. Secondo me Cutrone fa un grande gol. Perché sente la porta da dietro, guarda che fa. È voluto. Questa non è una torre. Questo è un tiro verso la porta di testa. Ma no, questo è voluto, senz'altro di testa. Bellissimo l'abbraccio con Gattuso e bello anche lo sguardo della Tic.